Ciao ragazzi, io i miei capelli di merda e il video universale fuori vi diamo il benvenuto in questo nuovo video in cui annuncerò l'ennesima live lo so che ne abbiamo fatta una praticamente una o due settimane fa ma abbiamo deciso di farne ancora un'altra giovedì 1 novembre alle ore 8 di sera perché sono saltate fuori un paio di sorpresine una sorpresa da parte di Bordi, uno degli N-Style e a quanto pare una sorpresina anche da parte di Algisi non so quella di Bordi, so che cos'è e la vedremo insieme in live quella di Algisi non so nemmeno io cosa sia quindi si scoprirà tutto in quel frangente, in quella live quindi niente, detto tutto ci vediamo giovedì 1 novembre alle 20 in live e vedremo queste belle sorpresine e sinceramente sono in hype quindi ciao Renzi